Ma buon dia a tutti amici di Doppia Frizione, siamo di nuovo tornati con un Doppia Frizione Reaction Lo so che due di figa sono un po' così streminziti però era lì il video quindi ve lo posterò martedì perché oggi non sono riuscito ad andare al Rally Vigneti Monferrini 2018 perché l'ho potuto da fare e quindi vi metterò questo, per passare settimana a Pasquetta ci sarà l'autocross maggiore e quindi tutti i video che riesco ve li metterò in settimana ma direi che possiamo iniziare subito con il video ok, un video molto traballante, il cappottone subito oddio è uscito dal finestrino ah Ferrari, 308 GTB, oddio, oddio vabbè, due boie no vabbè però sei scemo eh io non ci credo oh Open Cadet, drittissimo porca troia, questo qui non ha paura di niente oddio, ah Hyundai drittissimo ok riesce comunque a ripartire R5, eh VRC, attenzione Fiesta Niente non riuscite a tenere Suzuki Swift via sporco mamma mia cappottone in mezzo alle frasche e continua ad andare no, si ferma questo Swift ha inondato qualsiasi persona che poteva inondare niente, si è fermato ok, un altro Fiesta dritto e però boom ha fatto ancora pochi danni dai un altro Fiesta senza già lo specchietto vuol dire che è già andato fuori da qualche parte orcocca anche te crione attenzione questo qui saluta oh mamma mia bella botta ok mezzo alla foreste un'apertazione posteriore oh oh tac questo qua la botta posteriore gli ha dato il giro oh oh DS3 derappata non ha continuato la derappata ha tirato giù anche un palo della luce mi sa saltino oh oh mamma mia proprio cos'è è un 206 cos'è era un 206 comunque stradarissimo 207 bagnato coprani ringhiera aia aia a casa ah l'ha presa l'ha presa la casa aix aia ho dato il colpettino se ne è che io mamma mia madonna eh una fuma attenzione ragazzi non mettetevi mai in traiettoria del rally perché potrebbe succedere questo questo qui l'ha visto questo qui Porsche è andato drittissimo però se non lo vedete vi viene addosso siete morti cioè se ne è fiatino neve giù dal fosso no dai no mamma mia questo qui mica ods2 mi sembra mica ha grindato un botto questo qui è un jaguar da rally non l'ho mai visto boom operastra che drift un bot fuori cappottone ma che cosa sta succedendo tutti questi cappottoni vabbè questo aveva leggermente preso la via con due ruote poi si è riuscito a rimettersi a posto saxo nella neve pum il quarto non lo prendiamo l'ha preso circuito bmw dritto si ho capito ma se metti le ruote e dietro c'è comunque un muro non credo che faccia qualcosa prototipi ma per barri tutta la vita come monumento non ha girato bene mamma mia cosi mi sarebbe una 24 ore americane mi sembra un circuito americano vediamo ok ha perso il controllo non si vede molto dietro ai personaggi però si vede qualcosa ha preso le ruote hai dato il giro madonna mamma mia magari è un è un gazebo in mezzo alla pista c'è l'aria ha portato dentro al circuito un gazebo madonna vedi che è un questo qui non ha visto proprio la curva cioè nel senso madonna mamma mia così non ha visto proprio oh madonna che botta ah quello dietro ha preso i rimanenti madonna ha rotto la sospensione si è visto proprio la ruota fare saltare via mamma mia ok sembra un porsche cap si sono toccati uno è uscito oh SOS contro Cayman tutti i due fuori boom oddio queste qui mi piacciono troppo come macchinine da guidare sono andati tutti tutti oddio 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 ah è uscito è uscito è uscito dritto boom boom la rover è escort fuori Kyo Cup giapponese mamma mia questo qui ha preso due ruote come quella di prima però no riesce a uscire riesce a uscire è riuscito altro campionato giapponese di Honda credo Jazz oh tieni go niente non l'ha tenuta è stata una bella botta campionato argentino brasiliano orcocane da questa prospettiva sembrava che andasse contro la macchina davanti però non credo attenzione boccano la curva quello dietro perde controllo contro il muro boom sempre il campionato brasiliano con questi prototipi stranissimi oh ha perso il controllo è uscito di pista ha preso l'altro che non c'entrava niente due gocce sulla sulla camera perde il controllo all'esterno mamma mia ha superato però dietro dietro è diventato un Ascar nel senso che se ne va uno riprende tutto il resto ha preso fuoco la macchina ha preso fuoco la macchina esci ok è uscito due macchine vediamo da un'altra angolazione ok ha girato il terzo in classifica preso in pieno era preso in pieno mamma mia e poi queste macchine nel bagagliaio di possiamo dire così hanno il serbatoio per quello che ha preso fuoco che è un'altra angolazione e poi oltre tutto oltre ad aver preso tutto cioè quelli altri si sono andati contro altri eccetera eccetera oh mamma mia che dritto non aveva più non aveva cos'è una golf dragster americane americane oh mica doppio che sa che ha vinto drifting attenzione boh e via oh fine gara dai ho fatto terzo dai ho fatto terzo mamma mia che botta quanto fumo è uscito proprio di pista ha preso l'erba ha iniziato a saltare vediamo contatto oh mamma mia una bella botta forse riesce anche a prendere il motocross e via breakdance oh mamma mia oh ah niente dato giù attenzione sai di car porca che tegua boh anche oggi il video di oggi cioè il video della 12 settimana è finito io vi rimando ad altri video che ho fatto dai tipo raggi del canavese che potete trovare fino alla terza prova e questa settimana rimanete sintonizzati perché ci sarà il campionato mi sembra italiano di autocross e probabilmente anche svizzero non lo so devo controllare comunque buona buona continuazione attenzione